Torna a casa Anna Moroni, dopo un ricco banchetto in Australia. Annina torna per proporre una delle sue specialità, le polpette. La ricetta è di una cara vicina di casa. Prepariamo le polpettine di Graziella. Ingredienti 300 g petto di pollo macinato, 300 g carne di vitella macinata, 3 uova, pangrattato, 400 g pomodori rossi o pelati, 2 gambi di sedano, 1 pizzico di cannella, aglio, olio, sale e pepe. Procedimento partiamo dal sugo. Prendiamo il sedano fresco, lo tagliamo a pezzetti e lo sbollentiamo per 2 minuti. Scaldiamo in una padella antiaderente un goccio di olio con uno spicchio di aglio, uniamo la salsa di pomodoro, il sedano sbollentato e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Per le polpette, in una bowl mettiamo il macinato di carne di pollo e di vitello, uniamo 3 uova, amalgamiamo bene ed uniamo il pangrattato, quanto basta per ottenere un composto consistente. Saliamo e pepiamo, amalgamando ancora bene il tutto, meglio se con le mani. Facoltativamente, possiamo aggiungere al composto anche un pizzico di cannella, punto col composto ottenuto, prelevandone un pochino alla volta, formiamo delle polpette di media dimensione. Le mettiamo nella padella con il sugo pronto e facciamo cuocere 5 minuti. Copriamo col coperchio, spegniamo il fuoco, lasciamo riposare 5 minuti. Riaccendiamo il fuoco e cuociamo altri 5 minuti. Le serviamo mettendole in una pirofila in modo che si possano anche scaldare prima di servirle.